Come hai la sensazione fa l'ottavo europeo? Ma oggi ci ho pensato effettivamente, ho fatto il conto e ho detto beh, bravo! No, è strano, non sembra che io sia qui da così tanto, invece alla fine sono tanti tanti anni, otto europei sono tantissimi. La storia dell'Italia su sei medagli in totali, te eri in cinque, sarebbe bello prenderne un'altra? Beh, io ogni volta che ho affrontato una competizione ci sono andata per prendere direi la miglior medaglia perché tanto non è che... quindi punto a quello, non punto adatto.